E sbuccia e taglia e trita e passa e spremi, ci vorrebbero cento mani. Ehi sorridi, si si si, son Bialetti, ne fo' cento e se tu bussi ta' contento. Ecco quello che ti serve, e Bialetti tutto cucina, si si si. Un solo apparecchio per cento usi. Così e passa pomodoro, in un'ora ne passa fino a centocinquanta chili. E passa legumi, passa verdura, si si si, passa frutta e puoi farci marmellate, gelatine, creme, succhi di frutta. Così e trita carne, così affetta e trita verdura, così grattugia, si si si, così tira sfoglia, così fa tagliatelle, si si si. Oggi, per le cose buone fatte in casa, allegramente, tutto cucina. Prodotto Bialetti Bialetti, gli elettrodomestici coi baffi. Bialetti, sei meraviglioso.